Domenica si è ufficialmente concluso il Mondiale MotoGP e come ogni anno e come ogni fine campionato arriva il video dei promossi e bocciati per quel determinato campionato, lo abbiamo già fatto per quanto riguarda la Superbike, format che vi invito a rivedere peraltro, lo trovate qui in alto nelle schede, lo facciamo per la MotoGP secondo dei tre campionati motoristici principali che seguo qui sul mio canale che si è concluso. Si è concluso Domenica, vi ricordo, con la vittoria di Miguel Oliveira a Portimao con una debacle in generale di Juan Mir, campione del mondo in carica, un Juan Mir che ha vinto un titolo del mondo in una stagione molto particolare causa Covid-19 e causa lockdown, stagione MotoGP che ha fatto solo 14 gare in Torea dove non essere una ventina e su 171 punti diciamo disponibili Mir è risultato il campione del mondo. E' il primo titolo per lo spagnolo in modo GP ovviamente, primo titolo per Suzuki 20 anni dopo Kenny Roberts Jr. dopo appunto IDUL 2000. Quello che vuole essere quest'oggi il video è un'analisi della stagione di ogni singolo pilota, andremo dall'ordine diciamo terzionale di classifica quindi dal primo classificato all'ultimo per vedere chi sono stati i promossi e i bocciati e nel caso ci sono commenti fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate di questa mia analisi. Quindi benvenuti al video podcast di questo format che in generale vedo che piace abbastanza. E partiamo proprio dal campione del mondo in carica Juan Mir come primo membro di questo speciale promossi e bocciati. Mir indubbiamente ha vinto il titolo del mondo con la costanza, il ruolo di marcia lo vedete, 171 punti con una sola vittoria nel Gran Premo d'Europa. Un Mir che evidentemente ha una stagione molto positiva, una stagione da promuovere senza ombra di dubbio perché ovviamente dei piloti è stato quello che è risultato il più costante di tutti e in questo mondiale particolarmente con la costanza evidentemente porta a casa il mondiale. Mir ha fatto un ruolo di marcia molto interessante soprattutto per quanto riguarda i due Gran Premi di Misano, Catalunia, Aragon Teruel e Valencia sono stati diciamo le sei gare evidentemente più importanti di Mir che ha fatto una caterba di podi e in quella caterba di podi il pilota spagnolo 23enne si è ritrovato evidentemente in testa alla classifica. Le altre gare le ha gestite, è passato diciamo a un modo di gareggiare più conservativo rispetto a quello che aveva il Moto3, Mir è già campione del mondo Moto3 2017 e lì scherzò gli avversari. Qui invece si è rivelato essere un calcolatore, un gestionale che in questo campionato 2020 senza Marc Marquez è un modo di lavorare, un modo di gareggiare che può funzionare a lungo termine onestamente non lo so. Fatto sta che la Suzuki è risultata essere alla lunga la miglior moto in pista tant'è vero che sia Mir che Rins di cui parleremo dopo hanno avuto una gran bella stagione ed è tornata appunto al titolo con il 23enne Hoad Mir. Dunque ancora una volta la MotoGP rimane in Spagna ma non è ovviamente Marc Marquez di cui però parleremo dopo anche per lui perché evidentemente c'è molto da dire nonostante abbia fatto una gara soltanto. Secondo classificato in classifica mondiale è Franco Morbidelli, anche lui stagione assolutamente da promuovere, Morbidelli è cresciuto ancora di più rispetto all'anno scorso. Già l'anno scorso Morbidelli poteva accusare psicologicamente la stagione considerato che in squadra aveva e ha ancora Fabio Quartararo che di fatto dal nulla è esploso come il potenziale anti-Marquez e quest'anno il francese sembrava essere evidentemente il candidato a vincere il titolo del mondo e invece la Yamaha SRT si ritrova inspiegabilmente un Morbidelli che con una moto inferiore perché rispetto al Quartararo ma anche di alcune concessioni ufficiali ha fatto una stagione veramente della madonna. Tre vittorie, altri due poti si sono aggiunti per Morbidelli, veramente il miglior italiano per distacco, il pilota probabilmente che è cresciuto di più anche rispetto all'anno scorso a parità di moto, è veramente un gran bel pilota Morbidelli che non passerà magari sotto i riflettori come un pilota carismatico, come un pilota che ha sempre lavorato è un pilota che anche lui ha già vinto un mondiale in Moto2 nel 2018 quindi non è di certo uno fermo è una stagione di Morbidelli che potrebbe consacrarlo già, non dico nei grandi però comunque nei piloti che potrebbero fare secondo me primi 5 con costanza anche il prossimo anno è un pilota che dagli addetti ai lavori è molto sottovalutato e se dovessi per un domani spendere un euro su un piatto italiano che potrebbe vincere un mondiale indubbiamente pur essendo un gran titolo della Ducati io lo punterei su Franco Morbidelli perché la sua costanza, la sua rabbia convertita nel lavoro come ha dichiarato lui l'ha portata a questi risultati a un titolo seppur platonico di vice campione del mondo. Terzo classificato è Alex Rins, anche lui va promosso perché come ha detto per me la Suzuki con soltanto due moto ha fatto una stagione veramente della madonna, poteva essere addirittura doppietta Suzuki per quanto riguarda il mondiale in generale invece ce ne sono stravergolette soltanto due nei primi tre che comunque per una casa molto piccola diciamo dal punto di vista delle moto presentate in pista cioè solo due contro magari per esempio le 4 di Yamaha, le 4 di Honda, le 6 di Ducati insomma è evidente che in questo caso il lavoro settorializzato la qualità ha pagato Rins è un pilota che è vero è stato battuto da Mir però ha fatto una gran bella stagione anche lui è da promuovere perché dopo tutto arrivare terzo in un mondiale vincendo anche una gara d'Aragon non è da tutti comunque ancora una volta ha dimostrato che la Suzuki puntando solo su questo reparto corse evidentemente ha portato molto di più sulla qualità e sul lavoro a lungo termine cosa che non hanno fatto altre case di cui parleremo tra poco una in realtà ne parleremo anche subito è della Ducati perché quarto in classifica c'è il mio preferito Andrea Dovizioso Dovizioso però è da bocciare, da bocciare perché è vero io sono un tifo della Ducati ma questi video sono fatti per essere obiettivi il più possibile da analista tra molte figlie di virgolette perché ovviamente sono un amatore Dovizioso senza Mark Marquez doveva e poteva vincere il mondiale visto che nei mondiali precedenti quando Marquez c'era Dovizioso era sempre arrivato dietro il cambio della gomma ha inciso sulle performance della Ducati aggiungiamo il fatto che in Ducati hanno una gestione dei piloti molto approssimativa il risultato è una stagione oltre malo deludente non basta la stagione in Austria per salvare Andrea Dovizioso che di fatto si ritira dal motociclismo quantomeno per un anno pare voglia tornare al 2022 ma secondo me onestamente la vedo dura se non in un team di seconda fascia a meno che Marquez veramente non si ritiri ma anche lì bisognerebbe vedere come tornerà e se tornerà il pilota spagnolo tornando nel merito di Dovizioso aveva delle credenziali ottime per puntare al titolo del mondo non c'è riuscito frutto quella serie di situazioni che ho detto fino a un secondo fa è una stagione da bocciare per quasi tutta la Ducati c'è solo un pilota secondo me che si salva e ne parleremo dopo ma purtroppo Andrea Dovizioso lascia la MotoGP in un modo probabilmente non consono magari il mondiale non avrebbe vinto lo stesso ma ci si aspettava ovviamente un Dovizioso più combattivo un Dovizioso più competitivo soprattutto è arrivato quarto semplicemente perché questo mondiale è livellato e secondo me verso il basso e ne parleremo quando arriveremo a parlare di Mark Marquez promuovo assolutamente Police Spargaro perché la KTM è evidentemente la seconda moto in pista dopo la Suzuki lo ha dimostrato nelle ultime gare KTM anche qui ha fatto un lavoro settorializzato molto interessante ha portato spesso nelle ultime gare più moto nei 10 che è molto positivo ha considerato l'alto livello delle case che sono presenti in generale nella MotoGP quest'anno magari un pochino meno però in ogni caso per una causa un po' più piccola in questo settore ovviamente ma in altri settori spopola vedi per esempio il motocross fare questi risultati è veramente importante Police Spargaro ha portato questa KTM a crescere a questi risultati e la lascerà perché l'anno prossimo andrà in onda ufficiale al pari di Mark Marquez come appunto suo compagnolo di squadra Police Spargaro non ha vinto era probabilmente il pilota che poteva vincere rispetto magari agli altri che sono emersi quest'anno che sono di fatto i semi rookie Brad Binder e il rookie di quest'anno Miguel Oliveira di cui parleremo dopo Police Spargaro fa comunque tanti podi 5 per la presa decisione in 14 gare che di certo per una moto sulla carta inferiore in partenza è tutto forché una cosa sbagliata però Police Spargaro lo promuovo e vedremo come si comporterà nella seconda onda ufficiale moto che da sempre ha dato problemi perché è la moto compagna di squadra di Mark Marquez sesto classificato è Maverick Vignales lui è uno da bocciare senza se e senza ma perché così come Quartararo lui era l'altro contendente al titolo senza Mark Marquez ma ancora una volta Vignales ha dimostrato di essere il pilota più altalenante del globo terraqueo perché ha alternato podi e prestazioni convincenti a risultati incredibilmente osceni le ultime tre gare per esempio sono da prendere come esempio per come non vincere un titolo mondiale perché tredicesimo decimo e undicesimo per un pilota che era arrivato tra l'altro in MotoGP vincendo le prime tre gare in un titolo che poi ha vinto Mark Marquez dando l'idea di essere lui l'antagonista del 93 insomma è un ruolino che lascia molto a desiderare bocciato senza se e senza ma Maverick Vignales così come di fatto tutta la Yamaha ma ci arriveremo parlavamo della Ducati parlavamo che in generale la Ducati è da bocciare non Jack Peter Miller perché è l'unico che ha salvato la baracca della Ducati con una Ducati semi ufficiale perché Prama che aveva le concessioni semi ufficiali Miller ha fatto una stagione più che dignitosa è l'unico che secondo me si merita la Ducati ufficiale per davvero è un pilota che ha dimostrato anche nei duelli di saperci fare secondo me la Ducati con questa configurazione non sarà pronta a vincere il titolo già l'anno prossimo ma per il futuro è una bella scelta sono contento che ci sia Miller è un pilota che mi piace è un pilota che è aggressivo ma ponderato non è il primo Miller che faceva delle cose abbastanza al limite è un pilota maturato un australiano solo Ducati è sempre una cosa di molto fascino staremo a vedere perché Jack Peter è un pilota molto giovane e veramente lui va promosso magari insieme a Zarco tutti gli altri in realtà no così come va bocciato in realtà Fabio Quartararo per lo stesso discorso che ha fatto con Vignales e soprattutto ha maggior ragione per il ruolino che ha avuto Quartararo all'inizio della mondiale e dei vari gran premi perché nella doppia gara di Jerez Quartararo ne ha vinte due su due scherzando gli avversari sembrava l'ennesimo mondiale dominato e poteva interrompersi la stessa spagnola dei mondiali in MotoGP non è successo perché Quartararo si è ancora una volta dimostrato un pilota alla Vignales quindi molto altalenante è tornato a vincere per caso diciamo a Catalogna e poi sparito dalla circolazione figlia anche dei problemi della Yamaha in generale tranne quella di Morbidelli che ovviamente è il pilota più sottovalutato del globo terrestre e ha fatto le prestazioni che ha fatto Quartararo è arrivato in MotoGP da nulla vincendo solo una gara in Moto2 facendo due podi dopo delle stagioni orrende in Moto3 era sempre stato definito come un potenziale crack è esploso in MotoGP categoria notoriamente difficile ha fatto tra virgolette l'antimarkets ma in realtà se vedete bene le gare di Quartararo persevata con Marquez è in realtà Marquez che ha deciso quando voleva di dare gas e vincere perché l'anno scorso Marquez era nettamente superiore senza Marquez Quartararo doveva e poteva vincere il mondiale ed è anche lui una delusione incredibile di questo campionato e vedremo l'anno prossimo come si comporterà in Yamaha ufficiale nonna posizione per Miguel Oliveira pilota KTM come abbiamo detto prima la causa austriaca ne ha piazzati tanti nei 10 nel corso della stagione Miguel Oliveira è al secondo anno di MotoGP dimostra essere un pilota molto cresciuto è un pilota molto talentoso che purtroppo nelle categorie inferiori ha vinto meno di quanto potesse meritare per esempio ha perso il titolo contro Danny Kent che se non sbaglio è sparito dalle circolazioni Miguel Oliveira è arrivato in MotoGP ha vinto una gara in stiria rocambolesca ha vinto una gara con merito in Portogallo scherzando gli avversari Oliveira e tutta la KTM di fatto promossa per quanto riguarda i titolari e un grande applauso a Miguel Oliveira che l'anno prossimo sarà in KTM ufficiale insieme a Brad Binder dunque si riforma la coppia di Moto2 promuovo anche Takaki Nakagami perché in assenza di Mark Marquez è stata l'unica Honda competitiva fino ai lampi di Alex Marquez in generale il giapponese comunque è maturato anche una volta si è dimostrato essere un pilota molto interessante è confermato in Honda LCR ma perché Honda vuole ovviamente un pilota giapponese su MotoGiapponese e rivedremo anche il prossimo anno comunque ottima stagione di Takaki Nakagami che con una moto clienti finisce nei 10 in generale nella classifica di Coppa del Mondo o comunque nel Mondiale perché non è uno sport invernale in ogni caso ottima gara e stagione per il giapponese il rookie dell'anno della MotoGP di quest'anno è Brad Binder pilota assolutamente che a me piace tantissimo è un pilota che promuovo perché come tutta la KTM ha fatto un grande step in avanti ha vinto una gara in Repubblica Ceca per far risuonare l'inno sudafricano in MotoGP è un pilota che probabilmente poteva fare qualche punto in più paga qualche zero di troppo ma tutto sommato è una stagione molto positiva e come ho detto per Oliveira lui sarà ufficiale il prossimo anno quindi di fatto confermato nel team dove ha corso quest'anno Danilo Petrucci dodicesimo in classifica del Mondiale è bocciato per lo stesso discorso che ho fatto per la Ducati se Dovizioso ha fatto fatica Petrucci è stato veramente disarmante perché non l'abbiamo mai visto competitivo vero ha vinto una gara alle mani sotto l'acqua ma sappiamo che Petrucci è un mago della pioggia per il resto parliamo di gare after the music e veramente anonime Petrucci dopo che è stato poi licenziato non ha corso diciamo molto sereno e vorrei anche ben vederlo e sembrava veramente in disarmo se ci andava qualcun altro probabilmente faceva gli stessi risultati in realtà di Petrucci insomma è un pilota che probabilmente avrebbe meritato di più nel corso della carriera e per il talento espresso non in questa stagione che veramente la reputo abbastanza disastrosa Yohan Zarco stagione che ha fatto un podio diciamo in Repubblica Ceca Bernou è stata l'unica Ducati che effettivamente ha salvato la baracca insieme a quella di Miller nell'ultima parte di stagione tutto sommato per essere una stagione di ritorno in MotoGP con una moto nettamente inferiore non ha fatto neanche così male tutto sommato Yohan Zarco è da promuovere tra l'altro Zarco l'anno prossimo sarà in Ducati Prama che insieme a Jorge Martin proveniente dalla Moto2 e comunque il francese per quanto sia protagonista di quel clamoroso incidente in Austria con Morbidelli non ha fatto una stagione cattiva dovrebbe essere forse meno aggressivo però con la moto che aveva secondo me non poteva fare assolutamente di più Alex Marquez è un pilota di cui ho già parlato tanto fin dal primo calendario della MotoGP è un pilota che a me onestamente non piace è stagione che sì lo vede protagonista di due podi molto estemporanei e infatti dopo è tornato sulla terra nelle posizioni che gli competono cioè praticamente in fondo alla classifica Marquez Junior ha fatto una stagione in ogni caso onesta è una stagione in realtà da non giudicare perché effettivamente sì i due podi sono estemporanei per il resto non ha fatto questa stagione pazzesca e incredibile rinvio a giudizio diciamo così per il fratello del pluricampione del mondo Valentino Rossi anche lui è non giudicabile perché qualche gara l'ha persa di fatto per Covid ha fatto una caterba di ritiri e ha comunque 40 e passa anni quindi non si può neanche pretendere che vinca il decimo titolo del mondo un podio l'ha portato a casa nella seconda gara di Jerez per il resto sì è una stagione pressoché anonima in particolare da misano due in poi Valentino Rossi comunque paga anche lui i problemi della Yamaha comunque direi senza voto il 46 Bagnaia è stato per me bocciato perché a parità di moto con la Ducati Pramac di Miller ha fatto molto peggio se la Pramac aveva quel potenziale che ha dimostrato Miller Bagnaia poteva e doveva ambire a qualcosa di più è vero Bagnaia si è infortunato dopo l'infortunio non è stato lo stesso ha fatto un podio in Styria e poi per il resto sono stati veramente molto anonimi e la scelta di mettere lui in Ducati ufficiale un pochino mi lascia perplesso perché onestamente ci potrevano stare altri piloti per la seconda moto della Ducati io avrei preferito che rimanesse dovizioso insieme a Miller ma lo sapete sono un grande po' di dovizioso e della Ducati ufficiale in generale Bagnaia mi sembra molto bruciare le tappe perché effettivamente ha dimostrato molto molto poco il talento non è in discussione quantomeno in MotoGP però insomma avrei fatto fare a Bagnaia un altro anno di moto clienti con le concessioni ufficiali per vedere dove poteva arrivare e poi vedersi magari nel 2022 nella moto ufficiale che è stato che è dovizioso verosimilmente in condizioni della mia fantasia avrebbe rinnovato per un altro anno comunque vedremo cosa farà Bagnaia non sono molto convinto che possa fare come Miller in Ducati ma vedremo parliamo dell'Aprilia perché il 17esimo in classifica è Aleix Spargaro un'Aprilia che ancora una volta è nella terra di nessuno una stagione in realtà abbastanza disastrosa perché ok che è una casa inferiore in questa categoria dei prototipi della MotoGP però Aleix Spargaro è un pilota che può ambire costantemente alla top 10 cosa che è arrivata sporadicamente per il potenziale di Aleix Spargaro è una stagione da bocciare un po' come l'Aprilia in generale che non ha avuto una vera seconda guida perché Iannone l'hanno squalificato per doping per 4 anni e poi Bradley Smith ha fatto poco e niente stessa cosa per Salvadori ma ne parleremo anche più avanti Carl Cracciolo si ritira dalla MotoGP andrà a fare con l'autore della Yamaha è una stagione in realtà non giudicabile perché qualche gara l'ha saltata e le gare che ha corso le ha corse di fatto da infortunato comunque chiude il campionato 18esimo a 32 punti onestamente è non giudicabile per le condizioni che ho detto comunque peccato non vedere più Carl per la prossima stagione un pilota inglese in MotoGP secondo me ci voleva e ci vorrà sempre peccato veramente non vederlo Cracciolo andrà a fare il collaudatore della Yamaha Stefan Bradel 19esimo in classifica di lui voglio parlare e lui lo voglio promuovere perché evidentemente Stefan Bradel non doveva essere in questa stagione in MotoGP perché sapete che i collaudatori di solito fanno le wildcard è vero i risultati della onda ufficiale di Bradel non sono paragonabili a quelli di un pilota vero di un pilota regolare quanto meglio con una moto ufficiale va detto che lui probabilmente correva con una configurazione tester perché non si spiegano queste difficoltà all'inizio della gara in ogni caso nella seconda parte della stagione è cresciuto Stefan Bradel e addirittura in due gare ha fatto top 10 l'ultima Portimao ha anche battuto Alex Marquez segno che Alex Marquez in MotoGP si si fa battere anche da un collaudatore insomma la dice lunga su come poteva competere il fratello di Mark Iker Lecuona stagione anche lui da non giudicare prima stagione per il pilota che si è capitato ventesimo in classifica generale direi bocciato ma tendenzialmente più rimandato Iker Lecuona perché ha corso spizziche bocconi in particolare la seconda parte dell'anno non l'abbiamo visto perché insomma qualche cosa l'ha fatta vedere qua e lì con due top 10 dopodiché ha preso il covid e dopo il covid ovviamente non ha continuato a correre lo vedremo comunque l'anno prossimo in KTM stesso team quindi Tech Troyes con Daniel Petrucci in squadra Bradley Smith anche lui non giudicato ma perché non doveva essere lì in teoria al posto del collaudatore Aprilia ci doveva essere Iannone sappiamo però che l'hanno squalificato per doping Smith non ha più neanche concluso la stagione perché c'è andato Salvadori al suo posto e insomma scambio di collaudatori non un bel signo da parte di Aprilia forse più bocciato che rimandato Bradley Smith Titone Rabat pilota di culto perché qualcuno ultimo è MotoGP ci deve essere a parità di MotoGi Sarko insomma ci si aspettava forse di più da un pilota che è comunque esperto in questa categoria d'accordo è un pilota pagante ma non è di certo un pilota fermo perché Rabat è un campione del mondo Moto2 direi bocciato anche Titone Rabat per quel poco che poteva fare non giudicato gli altri piloti che vediamo qui tranne uno Michele Pirro ha fatto due gare una gara a punti dodicesimo Micah Caglio il finlandese volante bombo leggendario a 38 anni ha fatto il 17esimo dell'ultima gara così una comparsata perché for the ultra meme Lorenzo Savadori ha fatto una stagione che non si può giudicare nemmeno lui perché ha fatto tre gare in due si è ritirato comunque era in crescita da Portimao e nell'ultima che è arrivata al traguardo era il 18esimo pare che Aprilia abbia confermato Savadori anche come pilota diciamo ufficiale davanti a Bradley Smith e dietro Aleix Spargaro sarei molto curioso di vedere Savadori l'anno prossimo è una stagione comunque in realtà da non giudicare secondo me per il pilota romagnolo parliamo di Mark Marquez e voi direte ma come ha fatto due gare e gli dai un voto gli do un voto sì perché ha fatto una gara sola perché nella seconda non ha manco corsa però è una stagione da bocciare per Mark Marquez e vi spiego perché Mark Marquez ha sbagliato tante volte pur facendo soltanto una gara nel senso che l'incidente di Erez 1 è di fatto per colpe sue si era già salvato nella gara stessa diciamo di Erez 1 con un salvataggio dei suoi la seconda gli ha detto veramente male e poi sappiamo quello che è successo con la grande caduta che appunto è stato protagonista e lì appunto ha vinto Quartalero quella gara lì la cazzata l'ha fatta in realtà dopo Mark Marquez perché ha fatto di tutto per poter rientrare subito a Erez con una frattura scomposta dell'omero del luna del radio anche quindi una frattura che comunque non di poco conto c'era anche un interessamento del nervo e era impossibile che tornasse in pista clinicamente il venerdì dopo è stato operato martedì inspiegabilmente i medici gli hanno dato l'ok per ripartire già a Andalusia quindi a Erez 2 e infatti si è visto cosa è fatto non è partito e per questa cosa qui Mark Marquez ha saltato tutta la stagione quando poteva evidentemente fare una stagione spezzata e non dico vincere il mondiale perché quest'anno la MotoGP senza Marquez dimostrata diciamo una MotoGP livellata ma di più basso livello che alto insomma l'errore di Marquez è stato nel voler forzare apposta per dimostrare che i piloti hanno una stoffa di un certo livello ha dimostrato di essere in realtà una persona come tutti gli altri che non posso portare una frattura scomposta peraltro col nervo interessato ha saltato tutta la stagione non è detto neanche che tornerà l'anno prossimo non si sa insomma Marquez anche una volta ha peccato di presunzione credendo di essere più imbattibile di una frattura di una malattia non è stato così perché anche Mark Marquez è umano insomma è una stagione secondo me fallimentare perché in condizioni normali il mondiale lo poteva vincere se non ci fosse stato l'infortunio secondo me qui ha peccato veramente di presunzione e in realtà mi auguro di vederlo l'anno prossimo se non dovesse essere così sappiamo del perché cioè delle complicazioni all'operazione ma ne parleremo in realtà l'anno prossimo ultimo pilota in classifica si fa per dire Garrett Gerloff che ha fatto le prove libere del campione d'Europa perché c'era bisogno di un pilota da sostituire Valentino Rossi positivo al covid ha comunque fatto l'esordino di GMP attenzione a Garrett Gerloff lo rivedremo l'anno prossimo in Superbike questi comunque sono i promossi e i bocciati sono più i promossi in realtà che i bocciati mi dispiace aver bocciato la Ducati squadra che io tifo ma evidentemente la stagione è fallimentare e non mi interessa niente che abbia vinto il titolo costruttore qui si poteva puntare al mondiale e non l'hanno vinto per il resto spero di essere stato abbastanza esemplificativo ed esostivo fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e saluto da parte di Meteo Torga ci vediamo domenica con il post-gara del Campremo del Bahrain di Formula 1